Spesso ci chiediamo quando accadono dei delitti, quale sia il modo migliore per cercare i colpevoli, spesso chiediamo che venga fatta giustizia al più presto, ebbene da queste parti speriamo che venga adottato lo stesso zelo per la morte di forse oltre 100 migranti che appunto come sapete negli scorsi giorni sono morti naufragando a largo delle coste della Calabria, appunto di Cutro, insomma c'è un'evidente discrasia fra quello che dicono i primi soccorritori Frontex e la guardia costiera italiana, bisognerà cercare di capire di più, forse anche per il futuro, come sia possibile che accadano certe cose, perché? Perché quell'imbarcazione era stata vista e questo è quello di cui si parla oggi, soprattutto sui giornali quotidiani, si parla anche ovviamente soprattutto su quelli locali, oltre che su quelli nazionali, anche del cambiamento importante che c'è a sinistra nei mesi scorsi, nelle settimane scorse vi avevamo raccontato come è cambiata la destra, la destra che ha vinto le elezioni politiche anche in Toscana, che adesso ha la sua premier e in questi giorni proviamo invece a raccontarvi come forse sta cambiando la sinistra e questi sono sicuramente i temi principali che discuteremo qui oggi a Prima di Tutto. Mercoledì 1 marzo, bentornati a Prima di Tutto, la rassegna stampa ragionata di TV Prato, grazie a Paolo Innocenti che oggi coordina la regia, grazie a noi miester romani che come al solito qui in studio a coordinare le operazioni da il piano della diretta. Ebbene, andiamo a parlare anche oggi delle prime pagine dei giornali, purtroppo dobbiamo cambiare tono, perché? Perché si parla di morti, non solo di quelli che vi ho annunciato e delle responsabilità rispetto ai migranti, ma anche di quello che è successo proprio nella tarda serata di ieri, ancora i giornali non lo riportano, ma noi per dovere di cronaca oggi qui alle 7 e mezzo, mercoledì 1 marzo, dobbiamo dirvi che sono più di 30 i morti che si sono verificati nella tarda serata di ieri in Grecia alla Rissa in uno scontro appunto fra due treni, un treno merce e un treno che trasportava le persone, vedrete, è una notizia che oggi giustamente occuperà molti dei notiziari e appunto dei report dei media. Però andiamo subito sulle notizie invece che compaiono sui giornali quotidiani come siamo abituati a fare qui a Prima di Tutto, il Corriere della Sera, migranti, scontro sui soccorsi, come vi dicevo appunto Piantedosi, che è il Ministro dell'Interno, dice fermatevi veniamo a prendervi, appunto insomma c'è anche questa querella sul naufragio, questo botte risposta fa Frontex e la Guardia Costiera sull'allarme presunto, dato, non ricevuto e ci sono gli accertamenti nella Procura di Crotoni che a questo punto deve fare del suo meglio. La fotonotizia del Corriere della Sera è dedicata invece ad un tema molto importante, in Russia attacco con i droni, governo Moldava sotto assedio. Allora che cosa è successo? Che centinaia di filorussi hanno tentato di entrare nella sede del governo appunto della Moldavia, ieri mentre il Cremlino appunto accusa l'Ucraina di aver sferrato un attacco con dei droni, con appunto la tecnologia che permette dai cieli di sganciare anche bombe con piccoli dispositivi che stanno in volo, come tutti sapete, insomma un'arma che abbiamo imparato a riconoscere anche in altre guerre e insomma il punto è che queste due cose probabilmente sono collegati a questi due fatti, ovvero l'occupazione, appunto il tentativo di entrare nella sede del governo in Moldavia da parte dei filorussi e l'attacco che è avvenuto precedentemente, si teme che ci sia appunto una catena di concause. Andiamo a vedere in particolare questa notizia sul Corriere della Sera, ci sono Guido Limpio e appunto il collega Andrea Marinelli che raccontano che cosa è successo fra lunedì sera e martedì, vi leggo qualche riga, una serie di incursioni in territorio russo affidate a droni ha provocato grandi allarme fra le autorità locali pur senza causare vittime. Kiev come sempre non ha rivendicato ma era un'azione annunciata e potrebbe rappresentare l'inizio di una nuova campagna, il capo dell'intelligence militare ucraina Vadim Skibitsky aveva dichiarato che avrebbero colpito il territorio russo e pochi giorni prima c'erano segnalazioni di azioni in profondità, il primo allarme è giunto appunto a Belgorod, non distante dalla frontiera ucraina, insomma velivoli ucraini senza pilota colpiscono in territorio nemico, la battaglia della retrovie coinvolge anche la Bielorussia, qui c'è anche sempre a pagina 2 su un Corriere, un articolo molto interessante di Marco Immarisio con la guerra vista dai supermercati, assorbenti vino e latte, così le sanzioni di Putin fanno salire i prezzi russi, ferie in Egitto comprese, ci dice Immarisio appunto che racconta anche questo aspetto della guerra che ha superato, ha varcato l'anno, appunto ricordiamo il 24 febbraio scorso il trizio anniversario e continua ad andare avanti, i fronti per l'appunto come vi dicevo a pagina 3 Bakhmut, si stringe la morsa in Moldavia, i filorussi tentano l'assalto alla sede del governo, stavolta è Lorenzo Cremonesi inviato da Kiev che ha raccontato tutto questo, appunto cresce la tensione in Moldavia, vedrete che ne parleremo anche nei prossimi giorni, ieri in serata la polizia della capitale appunto Kisinau si è scontrata con centinaia di manifestanti del partito filorusso Sor che cercavano di fare eruzione nella sede del governo, testimoni sul posto parlano di diversi arresti, dopo gli scontri parte del cortio si è diretta nei pressi, ci racconta Cremonesi, del municipio dove il governatore della regione di Orei che si chiama Dinu Turkanu, a sua volta dirigente del Sor, quindi il partito filorusso, ha arrengato la folla chiedendo che il governo aiuti la popolazione contro la crescita del prezzo dell'energia, ovviamente si parla di tensioni che attraverso tematiche anche economiche o sociali riflette in realtà un dissidio che è ben più aspro e che possiamo riscontrare purtroppo anche nella violenza della guerra e questo accade per la prima volta in un territorio che sta fuori dall'Ucraina, quindi gli allarmi si devono accendere da questo punto di vista, andiamo ancora avanti con il Corriere della Sera perché la notizia che continueremo ad approfondire anche su altri giornali è quella principale, ovvero quello che è successo in quella barca purtroppo prima che naufragasse, ci tenevano tutti in stiva, ovviamente parlo della barca naufragata a largo della Calabria che vi ricordo avrebbe fatto più di 100 morti, sarebbe il secondo peggior disastro del mare nel nostro paese di sempre, ci tenevano tutti in stiva alle madri dicevano non fate piangere i bimbi, il racconto dei superstiti alcuni di noi erano zuppi di gasolio, veramente delle parole agghiaccianti in questo racconto di Giuseppe Fasano sul Corriere, ancora Carlo Macri, il pescatore per primo sulla spiaggia, io tra le onde a tirar fuori i cadaveri, un'altra immagine veramente terribile che arriva dall'inviato del Corriere da Steccato di Cutro, di mestiere fa il pescatore professionista Antonio Grazioso, leggo l'articolo di Macri, all'alba di domenica scorsa è stato il primo ad arrivare alla foce del fiume Tacina dove un barcone di immigrati si è spezzato provocando la morte di almeno 66 profughi, questi sono i morti ufficiali recuperati fino a ieri sera, sono stato svegliato dalla guardia costiera, racconta, alle 5.40 mi hanno chiesto di andare di corse in spiaggia per verificare se avvistavo in lontananza qualche barcone, chiede giustamente il giornalista perché l'hanno chiesto a lei, sono amico della guardia costiera e spesso loro mi chiamano per monitorare lo specchio d'acqua in quel punto, io abito a 500 metri visto che spesso e negli anni molte imbarcazioni di profughi si sono spiaggiate proprio lì, da casa sentivo il rumore delle onde, il mare era molto agitato, mi sono preoccupato perché se arrivo ci fosse stato sarebbe stato complicato gestirlo in quella situazione, racconta appunto il pescatore, insomma non vi leggo anche il resto dell'articolo ma avete capito che si tratta di una vicenda agghiacciante per non dire drammatica e non ci sono davvero parole in realtà per descrivere, sono tutte inadatte a descrivere questo terribile evento avvenuto e su cui speriamo come dicevamo prima che venga fatta in chiarezza. Incontri e foto, Schlein alla camera, Bonaccini, chi esce dal PD sbaglia, passiamo alla politica ma vedrete che poi ritorneremo con gli altri giornali sul ping pong fra i due temi, in questo caso si parla dell'applauso quando è entrato in aula Montecitorio per Eli Schlein che sapete è stata elettere putata, sotto c'è un articolo di Roberto Gressi che racconta l'epopea e anche il Pantheon come va di moda dire ultimamente, il Pantheon della leader, della nuova segretaria del Partito Democratico, Eli Schlein, sapete che è stata eletta inaspettatamente dal punto di vista delle previsioni domenica sera e che appunto si racconta qui aveva alcuni idoli, alcuni in vita, alcuni che non ci sono più, alcuni che hanno ispirato la sua azione politica in passato da Obama, di cui ricordiamo ha partecipato alle due campagne per l'elezione, a Varoufakis, ricorderete l'ex ministro delle finanze del governo Tsipras in Grecia, appunto poi il rider ribelle e l'attivista delle favelas, il Pantheon della leader, insomma si fa persino nella descrizione dei personaggi menzione di che cosa piace alla segretaria in questo caso dal punto di vista musicale, quindi i The National, chissà che insomma anche una descrizione più personale a volte non aiuti le persone, gli elettori o i cittadini a capire meglio chi sono questi leader, oggi parleremo anche di questo, parleremo anche di un altro nuovo leader, ovvero di Emiliano Fossi che è il nuovo segretario del Partito Democratico in Toscana, specularmente a quello che è accaduto ovviamente a livello nazionale, ma continuiamo con le prime pagine, stavolta andiamo su Repubblica, una foto anche qui spiazzante delle bare dei 66 migrati morti nel naufragio di domenica scorsa, distese sul parquet del Palasport proprio di Crotone, lo dico per coloro che non possono vedere queste immagini, ascoltano il podcast, è veramente un tuffo al cuore, anche perché le 66 bare messe in fila sono cappeggiate da 5 bare di colore bianco che sono evidentemente bare che contengono bambini, nessuno ha voluto salvarli, è il titolo che ha scelto il giornale di Maurizio Morinari, il barcone in difficoltà a carico di persone è avvistato 7 ore prima, ma la situazione è stata gestita come un problema di polizia, senza pensare ai soccorsi, quindi scambio di accuse fra la centrale europea Frontex e la guardia costiera, il Ministro Lollobrigida ieri a certo punto ha detto che saranno fatti entrare 500 mila migranti, ma poi ha smentito questa dichiarazione e probabilmente anche di questo parleremo nelle prossime ore, però andiamo a vedere Repubblica al suo interno, perché qui il racconto della lite fra Frontex e la guardia costiera è esplicito e lo fanno Dario del Porto da Cutro e Alessandra Ziniti da Roma, lo hanno visto, fotografato, dicono i giornalisti, tracciato una telefonata verso la Turchia, rilevato alla presenza di forte calore sotto coperta e lo hanno abbandonato per più di 7 lunghissime ore in mezzo al mare, forza 4, c'erano tutti gli elementi, raccontano ancora i cronisti di Repubblica, per capire che nel ventre di quel vecchio barcone che nella notte avanzava lentamente verso le coste calabresi con una sola persona al timone c'erano centinaia di migranti provenienti dalla rotta turca, percorsa soprattutto dalla famiglia di profughi afghani, siriani e irachieni e sono effettivamente anche le nazionalità che purtroppo, dico purtroppo per quello che gli è capitato, sono riscontrate tra i morti e anche i superstiti della strage a largo della Calabria e se i numeri sono confermati voglio farvi capire le dimensioni di questa strage, i superstiti sono meno dei morti, quindi siamo veramente di fronte a una vicenda per cui avete capito molto bene, ci sono poche parole, anche qui si ripete il titolo, li hanno lasciati morire all'interno di Repubblica, un altro dei protagonisti di questa vicenda è il ministro dell'interno Piantedosi che negli scorsi giorni ha fatto delle dichiarazioni discutibili su quanto è accaduto a largo della Calabria e soprattutto sugli intenti dei migranti che lasciano il loro paese e vanno in mare, quindi Piantedosi non si scusa, dice Repubblica e prepara un'altra stretta, ma ora Fratelli d'Italia si smarca, questa è la notizia politica, il ministro nella bufera si difende, dice dalla nave nessun SOS, presto arriverà un decreto migranti sul modello Salvini, anche se su questo vi devo avvisare che ci sono diverse visioni discordanti, non si capisce bene quale sarà il testo di questo nuovo decreto, chiamato in causa il leader leghista per la delega sulla Guardia Costiera, la destra però a questo punto chiede di fare chiarezza e questa è la novità segnalata da Antonio Fraschilla, cioè il fatto che proprio l'azione di Piantedosi possa conoscere uno stop almeno politico, una presa di distanza da parte del partito che guida la coalizione, Tommaso Cirieco invece appunto ci racconta quella di cui vi dicevo, ingressi per 500 mila, l'olobrigida rilancia, poi frena, però si lavora a un piano flussi. Andiamo ancora avanti da Repubblica perché volevo segnalarvi almeno altre tre pagine, la prima, Schlein, debutto con Conte, sabato antifascista a Firenze, cosa ci sarà sabato? Vedrete anche sui giornali locali una manifestazione ovviamente per la solidarietà a quella preside che ha scritto una lettera toccante di cui abbiamo parlato ai ragazzi coinvolti nelle violenze del Michelangelo, che sono insomma state sulle cronache dei giornali per molti giorni, ebbene questa manifestazione vedrà la presenza anche della nuova segretaria del Partito Democratico, Elisline, che fa così il suo debutto pubblico a una manifestazione sostanzialmente antifascista o che comunque riconosce i valori appunto dell'antifascismo come primari e Bonaccini torna in Regione, ovviamente in Emilia Romagna, se la leader vorrà io ci sarò, ma dica a quale PD pensa, insomma c'è anche la richiesta, ieri ci è capitato di parlare con alcuni parlamentari bonacciniani e abbiamo rilevato che effettivamente c'è difficoltà anche fra di loro, molti stanno chiedendo a Bonaccini di restare a tenere unito questo fronte che ha perso il congresso, perché effettivamente se così non fosse ci sarebbe anche una difficoltà nel continuare insieme, questo è il grande tema, magari poi lo chiediamo ai protagonisti appunto dei nostri approfondimenti, ancora spinta dalle città e dal campo largo Cosielli ha sorpreso anche i sondaggi, vedete qui c'è una mappa che potete vedere, vedete dove Elisline ha primeggiato andando ben oltre il 60-70% soprattutto al nord e dove invece è andata sotto, ovvero al sud, il sud ha votato per lo più, come vedete almeno soprattutto dalla Campania in giù Bonaccini e ce ne sono fatte per la Sicilia, mentre l'Emilia si è divisa ma ha votato più Bonaccini che Schlein, dov'è il cuore rosso nel centro Italia? La Toscana, tutte le province della Toscana sono colorate di Schlein e hanno dato a lei la vittoria, insomma anche ovviamente si fa riferimento qui al voto popolare, non a quello dei circoli dove in alcuni posti, per esempio a Firenze era successo il contrario, poi ricordiamolo il risultato popolare ha ribaltato tutto questo, non è successo a Prato dove invece sia i circoli nella provincia che il voto popolare ha sancito la sua vittoria, passiamo velocemente alle prime pagine locali e poi chiudiamo la nostra rassegna, maggio, 6 giorni per decidere, qua abbiamo il Corriere Fiorentino, cosa si deve decidere? Il nuovo sovrintendente del maggio musicale che verrà espresso dopo le dimissioni, ricordate tutti di Pereira, ma se andiamo sulla Repubblica di Firenze c'è già un nome, per il maggio avanza Fuortes, Carlo Fuortes amministratore delegato della RAI, in uscita potrebbe essere uno dei principali contendenti per succedere ad Alexander Pereira, per cui c'è anche un'interduzione che arriva dalla Procura, rispetto ovviamente alle spese fatte negli scorsi giorni, Fiorentino è il momento di Cabral, gol e balli brasiliani per il rilancio e lo sport a occupare la fotonotizia di Repubblica Firenze, la Nazione parla dell'effetto Schlein e del disgelo fra PD e Movimento 5 Stelle, tutto da vedere, per esempio a Prato non sappiamo bene se si verificherà oppure no, tra poco lo vedremo, anche ne parlano i giornali, sul Tirreno si parla di pensione negata a una donna che risulta morta dal 2008, un articolo di Paolo Nencioni, che pure, sempre Paolo Nencioni ci racconta invece che cosa è successo al PD Pratese e fa un parallelo forse ardito, Partito Democratico, i giovani leoni 40 anni dopo, insomma da Biagioni un appello all'unità, che cosa succede? Ce lo facciamo raccontare da Paolo Nencioni, ieri c'è stata una conferenza stampa del Partito Democratico e nella sede del PD al 15 di via Carraia, dice Nencioni, sono in corso i lavori per il rifacimento dell'ascensore che porta al primo piano e sono lavori in qualche modo simbolici perché al primo piano ci sono i giovani che alla fine del 2021 hanno vinto il congresso portando l'allora trentenne Marco Biagioni alla guida della federazione, ben inteso quel congresso è stato unitario, hanno vinto già prima di giocarlo e ora sembrano aver preso definitivamente l'ascensore per il potere dopo la vittoria di Elislein e di Emiliano Fossi nelle primarie per la segreteria nazionale e regionale, la storia ci dice Nencioni, si ripete, dopo 40 anni Biagioni non era ancora nato quando i giovani leoni guidati da Claudio e Franco Martini insieme a Fabrizio Mattei vinsero nell'83 il congresso del PC a Cogliano, mitico congresso del PC a Cogliano, che tutti quelli che si avvicinano alla politica devono conoscere come episodio anche mitologico rispetto al cambiamento, poi è stato evocato più volte, ogni volta che c'è un cambiamento nella sinistra si parla di quello. Andiamo a vedere per concludere la Nazione di Prato, pronta soccorso rivolta dei medici, questa è una notizia che riguarda tutti perché è arrivata una pesante lettera di accuse contro la Regione, inviata peraltro anche al Primo Ministro Giorgia Meloni da parte dei medici, troppi accessi e pochi letti, così salute pubblica rischio. Ci viene da dire che ce ne eravamo accorti, soprattutto da pazienti perché sono pochi coloro che non hanno un amico un parente o una persona a cui vogliono bene e che non ha scontato questo supplizio, parliamo di Prato perché siamo a Prato, trasmettiamo da Prato, succede anche in altre città della Toscana, però diciamo la verità, queste attese che si protraggono oltre i due giorni a volte sono scandalose, non sono degne di un paese civile e purtroppo speriamo che si possa presto trovare una soluzione, perché veramente anche i medici ora protestano, ma è chiaro che sono tutti, dovrebbe protestare tutta la società, compresa la politica, dovrebbe protestare anche con se stessa e cercare una soluzione veloce a un problema che è chiaramente strutturale, ma che va in qualche modo risolto almeno in questi mesi prima di affrontarlo strutturalmente. Il dovere di ascoltare chi cura è appunto l'editoriale che Leonardo Biagiotti che coordina l'edizione della Nazione fa parlando della lettera aperta che i medici hanno mandato, vi leggo qualche riga, più volte abbiamo documentato, dice anche Biagiotti purtroppo che i pazienti sono costretti ad aspettare ore in barella prima di sperare di avere un posto in reparto, ma quello che dicono i medici è molto più grave, scrivono che è a rischio la salute pubblica perché non ce la fanno più a sostenere una situazione tragica, dicono che non vogliono più essere capo ispettori, questa è una voce che arriva da dentro gli ospedali, chi deve curare chiede una cura, va ascoltato subito, questo insomma è inequivocabile. Concludo con le pagine che ho segnalato per voi per la Nazione di Prato, poi passiamo alla nostra ospite, allora prima di tutto appunto questa lettera del pronto soccorso, dei medici del pronto soccorso che lo definiscono una polveriera e poi ancora avanti con il PD, adesso cambia la segreteria, Biagioni, dialogo con i grillini, vedete quello che vi dicevo prima, il segretario provinciale apre il confronto, chi entra nell'Assemblea Nazionale e in quella ragionale, insomma ce lo racconta Silvia Bini oggi che ieri ha appunto fatto report anche dalla conferenza stampa che il PD ha tenuto, ebbene ieri sera è arrivato anche un comunicato stampa almeno di una parte, quella consigliare del Movimento 5 Stelle che metteva subito in discussione questa apertura, insomma sulla via del riformismo, era Silvia La Vita che l'ha mandata, però ora il coordinatore è Carmine Maiorello, quindi vedremo come si disporranno se mai ci sarà un nuovo matrimonio fra il PD e il Movimento 5 Stelle, anche a Prato dove sapete il prossimo anno si vota e di questo parleremo sicuramente anche con la nostra ospite che è una consigliera comunale che frequenta da tempo gli ambienti della sinistra, a cui abbiamo tante cose da chiedere, è Silvia Norcia, consigliera comunale pratese, ebbene parleremo con lei subito dopo la pubblicità Prato Allarme, siamo da 30 anni al vostro servizio, presenti su tutto il territorio, e reperibili 24 ore su 24, i nostri impianti sono tutti certificati Prato Allarme, sicuro e meglio, siamo a Prato, in via Curtatone 16, telefono 0574 25965 Stanchi di cercare un parcheggio per il vostro shopping? Siete in ritardo per la cena in centro con gli amici? Niente paura, parcheggiare al serraglio è come essere già in centro Parcheggio del serraglio, 400 posti al coperto, moderno e sicuro, per auto, moto e bici, tariffa giornaliera a 6 euro, tariffa notturna a 1 euro, aperto 24 ore, parcheggio al serraglio, il tuo parcheggio in centro Studi medici aesthetic medical care, nuova sede in via Udine 56 Nuovi servizi, gastroscopia da 115 euro, colonoscopia da 145 euro, tac da 110 euro, mammografia da 80 euro, risonanza magnetica alto campo 1,5 tesla da 130 euro, macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente, nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie, aesthetic medical care, ogni giorno al tuo fianco Era un colpo perfetto, avevo curato ogni dettaglio, eppure sono qui Mi definivano abile, scaltro, infallibile E anche se non ce l'ho fatta, ci riproverò Potete stare tranquilli voi, comprato poi Non è un caso che siano professionisti della sicurezza Non è un caso che sia不會 Se non ce si non besti far Continua per andare Buongiorno, bentornati a prima di tutto la parte dell'approfondimento, sono davvero molto molto contento oggi di poter parlare delle notizie che abbiamo appena discusso con la consigliera comunale indipendente di Prato, Silvia Norcia, buongiorno. Buongiorno, grazie di essere qui a commentare con noi le notizie e non possiamo, Silvia non so se siete d'accordo, non partire dalla notizia del giorno ovviamente di questi giorni che supera in ogni modo tutte le altre e le copre con un velo terribile nero, il velo della morte, ancora una volta stiamo a parlare di migranti che perdono la vita. Ti chiedo una considerazione su questo, a te che so che sei molto vicino alla battaglia per tornare ad un mondo civile da questo punto di vista e ti chiedo anche, viste le tue esperienze, che cosa si può fare dal territorio? Cioè sono cose da noi così lontane, magari poi insomma nell'articolo nella tua risposta come vuoi, però sono cose da noi così lontane, possiamo veramente fare qualcosa in qualche modo noi, anche una domanda un po' retorica, però voglio chiedere a una persona che è impegnata su questo. Grazie Giorgio, intanto la ringrazio per l'invito di questa mattina che sa che mi fa molto piacere. Fa piacere a noi. Il tema chiaramente è un tema che ho conosciuto molto da vicino perché tra il 2015 e il 2018 ma anche il 2019 mi sono occupata da vicino del tema dell'immigrazione e in particolare dell'accoglienza, in quanto sono stata una delle operatrici che sul territorio si è adoperata proprio in questo senso. Il territorio ha fatto delle esperienze molto importanti dal mio punto di vista in quegli anni che sarebbe molto bello un giorno poter condividere all'interno di una discussione secondo me onesta e aperta perché questo aiuterebbe davvero in qualche modo a interrogarci e a comprendere quale dovrebbe essere la risposta al tema dell'accoglienza per quel che concerne chiaramente il tema del territorio, del nostro paese ma dell'intera Unione Europea. E questo sicuramente è un primo dato molto importante. È un dolore sicuramente trovarsi a leggere ancora una volta queste pagine di giornale. Io le posso dire un mio aspetto personale, ricordo molto bene un episodio in cui qualche anno fa mi trovavo per l'appunto in Calabria al mare e guardavo il Mediterraneo e per quello che ho visto negli anni a un certo punto mi sono detta questa bellezza forse non riesco più a riconoscerla, ho qualcosa dentro di me che mi impedisce di godere appieno della bellezza del nostro mar Mediterraneo, non ce la potrà mai rendere nessuno e io temo che qualcosa di simile sia quello che ci troviamo davanti anche oggi. Molto bello, grazie davvero, questa non è una cosa banale quella che sta dicendo perché poi effettivamente questi sono i luoghi dove noi andiamo a cercare di rilassarci, questo diciamo anche giustamente quando vediamo le bellezze del nostro sud però voglio dire non è solo il sangue che sporca il mare ma a questo punto anche le coscienze sono sporcate da qualcosa che non può più andare avanti, una cosa del genere insomma penso che chiunque se ne renda conto vedremo quali sono stavolta le responsabilità, anche qui insomma abbiamo qualcosa da fare. Interessante il passaggio sulle buone pratiche, se buone sono davvero, rispetto al territorio. Nel tempo diciamo così si è un po' secondo la sua sensazione anche persa l'importanza diciamo da parte delle persone di capire l'accoglienza dalle nostre parti? Allora il tema è sicuramente complesso, aggiungo solo in premessa anche un altro elemento che invece ci collega sempre diciamo al conoscere la questione, io vorrei anche ricordare che comunque tutte le persone che negli anni sono arrivate e hanno chiesto, hanno fatto una richiesta di asilo, questa richiesta è sempre stata accompagnata da una memoria di cui il nostro ministero degli interni è in possesso e che quindi diciamo oltre alla conoscenza politica di quello che avviene intorno a noi abbiamo anche e il nostro governo è in possesso di tutta una serie di memorie e di racconti che tracciano il viaggio di ogni singola persona e questo insomma non è un dato da poco che mi piace far emergere. Cioè 100 milioni di storie personali. Che sono a disposizione della storia o della politica a seconda dell'uso che noi vorremmo fare. Per quanto riguarda le pratiche dell'accoglienza ora io negli ultimi tempi e di recente non l'ho seguita da vicino quindi rischierei chiaramente di entrare in un tema e come lei sa mi piace stare dentro le cose e parlare di quello che conosco. La conosco molto bene, anzi la ringrazio per quello di essere venuta perché ho corteggiato a lungo Silvia per venire però lei è una persona che interviene specificamente rispetto a quello che maneggia direttamente quindi insomma grazie anche di esserci messa alla disposizione di una diretta che non sa mai quali insidie nasconde. Senta gliela attendo subito un insidio. Lei sta a sinistra, la sua storia è a sinistra però è indipendente, come mai? Come ci è arrivata? Allora intanto a volte mi piace forse come sono ritornata. Sì esatto. Nel senso che il mio percorso nasce da indipendente e si conferma indipendente Giorgio. Io penso di vederla in questo modo no? Penso che all'interno di un percorso che mi piace definire e descrivere come complesso quando mi chiedono come sono stati questi anni di consiglio comunale sicuramente complessi perché complesso per me è fare delle scelte, riuscire a fare le scelte giuste. Io ho fatto un percorso di cui sono sicuramente convinta. Probabilmente, guardi, ieri ho ascoltato la vostra puntata molto interessante avete toccato una serie di aspetti che ho sentito molto vicini. Si riferisce alla puntata dove c'era Faggini e Nenciarini. Esatto, Faggini e Nenciarini. È stato uno scambio molto interessante. Tra i temi toccati, ad esempio, c'è stato il tema del linguaggio. Ecco, il linguaggio, il modo, quando si... Credo che, come dire, il mezzo definisca anche il fine o in qualche modo intervenga nel fine. Non sempre il fine giustifica il mezzo e tante volte il mezzo ha un significato stesso. Penso che nel mio caso, in qualche modo, il mio essere civica e il mio essere... Aver tentato un percorso di avvicinamento ai partiti ma non mi ha portato a voler confermare il mio linguaggio o comunque non solo il mio, quello che sento essere forse il linguaggio di molte persone accanto a me. Io stavo per chiedere... Esatto. Si sente sola in questo oppure... Comunque trovo un riscontro in questo linguaggio? Trovo un riscontro ma non solo. Ieri avete anche parlato, ripetiamo qualche espressione ma perché è stato molto interessante. A me fa piacere se ci cita. Esatto. Dopo aver citato McLuhan e Machiavelli insieme posso fare quello che vuoi. Non so, non ricordo che di tre, forse Nenciarini ha usato il termine afflato antico, no? Sì, 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 esatto. Ecco, forse lo trovo un po' antico o non lo trovo o non trovo rispondere a quel bisogno invece forse di ritrovare qualcosa, un linguaggio capace di star fuori ecco da uno schema che oggi non condivido appieno ecco in cui non mi ritrovo. Eh, questo è interessante. Ora ci spiega, magari diamo anche un pochino più dentro questa sua descrizione insomma da indipendente a indipendente passando per i partiti. Mi alza perché onestamente abbiamo più volte fatto vedere in queste ore, in queste puntate di prima di tutto ecco qui vediamo la foto di Schleim insomma ecco c'è un partito che è tornato diciamo così però a chiedere ai cittadini che cosa pensa ed è un partito che ha scoperto di pensarla dentro diversamente da come la pensano fuori simpatizzanti. Questo ha a che fare con i linguaggi con quello che sta succedendo nella sinistra? Glielo chiedo perché e poi le chiedo anche non è stata tentata di andare a dare il suo contributo diciamo la notizia ha votato oppure no? Non ho votato non ho partecipato alle primarie del Partito Democratico non è stata una scelta anche questa semplice perché diciamo in questo caso c'è comunque un conflitto tra quella che è sempre stata un'elettrice di sinistra e poi chiaramente invece una parte che rispetta un percorso politico e quindi l'essere attore politico essere il soggetto politico all'interno di una dinamica allora io ho trovato le primarie sicuramente comunque interessanti perché peraltro hanno in qualche modo messo alla luce appunto due candidati che rispetto al nostro quadro locale in realtà è stato anche un po' difficile non orientarsi perché se vogliamo fino al giorno prima eravamo abituati a un altro schema esatto e a un certo punto ne è intervenuto uno nuovo poi riflettendoci in questi giorni mi sono resa conto che in realtà quello schema forse c'era già solo che come è stato detto forse non era stato visto davvero me lo dicono in molti ma io non l'avevo colto da fuori vedevo più un partito riformista e un partito diciamo più di sinistra con delle espressioni forti a livello diciamo di rappresentanza invece poi ho visto che stavano tutti molti da una parte però insomma e però anche proprio rispetto a questo è arrivata anche la risposta rispetto alla mia partecipazione alle primarie e rispetto poi alla mia scelta da indipendente nel senso che nel corso degli anni quando in più volte mi sono trovata a confrontarmi con le due parti del partito democratico alla fine mi sono dovuta dare una risposta e la risposta è stata che il dialogo era necessariamente con un unico soggetto che era il partito democratico che da uno o dall'altra parte doveva assumersi un unico tipo di responsabilità e a quel punto ho capito che il mio diciamo modo di formi rispetto a quello a quelle primarie doveva essere da soggetto interlocutore e quindi esterno rispetto a un partito che doveva andare in qualche modo a mio avviso a definirsi e diventare e quindi capire chi sarà l'interlocutore è molto chiaro come crede che diciamo così affronterà la sinistra nei prossimi mesi questa difficile battaglia di avvicinamento verso invece le elezioni amministrative glielo chiedo perché innanzitutto la destra è una destra molto forte nel paese e anche a Prato anche in Toscana dove sapete ha vinto le elezioni politiche poi le amministrative sono sempre un'altra cosa però a meno che non ci siano come dire cambi di rotta dell'ultimo minuto sul terzo mandato che indirizzerebbero sicuramente Matteo Biffoni verso insomma verso quella strada di candidatura ovviamente però ecco ora c'è una successione da pensare è una successione interrotta da questo nuovo vento cosa succederà? Se posso poi ora o in un altro momento mi sarà interessante approfondire il tema del terzo mandato sul quale ho riflettuto molto lo dico subito non facciamo aspettare l'ospettativo ho anche questa una riflessione che è maturata in questi ultimi mesi da osservatrice le sa che mi piace molto osservare ecco io ho iniziato a pensare che forse non solo il terzo mandato non sia opportuno ma che addirittura in un quadro che è ancora molto lontano da noi un po' ideale un po' sognando un po' immaginando quali sono i problemi della nostra politica locale soprattutto e come uscire forse ho immaginato che dovremmo sempre più invece considerare non voglio dire un unico mandato non solo per il sindaco ma anche per il consiglio comunale ma immaginare una più facile rotazione nel senso che il nostro schema di oggi di fare politica e quindi di una politica che è legata alla sua continuità nel tempo ma purtroppo anche dal punto di vista purtroppo per fortuna non purtroppo in realtà però che comunque in qualche modo lega poi la politica al percorso alla necessità alla volontà di andare avanti forse dovrebbe iniziare a pensare di svincolarsi soprattutto lato consiglio comunale quindi immaginare il consiglio come un luogo al quale effettivamente si dà la propria disponibilità ma al fine unico di molto interessante di contribuire contribuire esatto è una riflessione è aperta ovviamente molto interessante dice lei meno legacy e più diciamo intercambiabilità anche dal punto di vista di quello che si può dare sì una riflessione veramente aperta lei la sente come un quindi dicendo così questa è ovviamente la sua prima consigliatura dicendo così ci dice anche che non è sicura che si ricandiderà allora questa va bene è una riflessione aperta ma perché sa ecco pongo un altro aspetto che riguarda proprio la distanza rispetto per esempio al partito democratico se lei guarda gli ultimi momenti politici o comunque tutte le volte che ho visto abbiamo partecipato a un'elezione ecco la prima riflessione che viene fuori spesso che sento dire dal partito democratico è adesso dobbiamo capire come riportare gli elettori da noi e questo per esempio è un punto di vista dal quale io sono molto distante nel senso che io non agisco al fine di riportare verso di me gli elettori o questo dal mio punto di vista non dovrebbe essere il ragionamento il mio ragionamento è che io agisco per rispondere e portare quello che secondo me è del mio punto di vista il mio ovviamente è la giusta direzione da dare e cambia molto è una prospettiva che cambia molto domanda e offerta politica rispetto al mercato elettorale già chiamarlo così ci fa capire moltissimo esatto purtroppo viaggiano troppo spesso in questa direzione che è anche la direzione nella quale la programmazione poi diventa complicata sappiamo tutti perché non si possono inseguire i desiderata insomma delle persone non solo quelli però spesso ci troviamo a discutere di parcheggi o di scegliere se un candidato sindaco è meglio per questo o per le buche che ha risolto però sì anche sulla base ovviamente quale pezzo di elettorato e qui rispondo anche alla sua prima domanda rispetto a quale pezzo di elettorato poi vogliamo portarci dietro ma ripeto credo che invece la parte propositiva o comunque appunto quella che è l'idea che dal mio punto di vista è la migliore per il mio contesto dovrebbe essere il motivo per il quale l'elettorato si avvicina o no alla mia idea quindi rispetto diciamo al quadro intanto io penso ovviamente da persona che ha fatto una scelta credo che già questa penso rappresentino un po' cosa io penso di cosa è successo in questa maggioranza in questi anni cioè io temo che purtroppo l'appiattimento sul partito democratico all'interno della nostra maggioranza sia stato un qualcosa di non positivo e critica su questo io sì nel senso penso che avremmo potuto mi ci metto nel mezzo perché poi penso le responsabilità si sono sempre condivise riuscire probabilmente a portare una pluralità diversa e che invece la scelta in qualche modo di assorbire avvicinare tutto dentro quindi temo che il partito democratico e quello che vedo è che sia comunque rimasto un soggetto solo o con pochi partiti intorno il terzo polo che certo c'è ma sta facendo ha preso una strada in questi anni dovrai seguire per forza una vocazione maggioritaria se resta solo certo esatto chiaramente e quindi la spinta ovviamente verso il Movimento 5 Stelle anche questa era una spinta che avevamo già visto più volte e quindi in questo momento è la strada che per esempio il partito democratico intende intraprendere senta Norcia è il momento delle donne anche in politica? ne sarei ben felice Bernardini ne sarei ben felice se posso le racconto anche qui un episodio sul quale rifensavo in questi giorni nella mia crescita uno dei momenti che più mi ha segnato è stato il se non ora quando non so se lei se lei lo ricorda me lo ricordo però ricordo bene e il se non ora quando mi ha segnato non tanto perché io volevo essere una di quelle donne in piazza ma al contrario perché non mi riconoscevo in quelle donne in piazza cioè non capivo la necessità di dover scendere in piazza per farmi riconoscere come donna e dicevo e pensavo ma io sono già lo devo fare nella mia quotidianità nel mio essere donna lavoratrice o studentessa o poi ora oggi sono le categorie però comunque già nella mia vita lo devo fare perché devo scendere in piazza per dire di essere donna certo certo molto chiaro e tra l'altro pensavo non c'è una donna al governo non siamo ancora pronti quando ci sarà io sono ben contenta che oggi ci sia una donna al governo e sono ben contenta comunque che Schlein abbia vinto queste primarie nel senso che mi piace molto questa politica al femminile credo che possa essere qualcosa interessante dare forse almeno in parte un punto di vista diverso più femminile questo insomma non possiamo che sottoscrivere nella dicotomia fra politica femminile e politica femminista pende da qualcuna delle due parti perché è chiaro che Elish Line porta avanti una lotta delle donne per le donne mentre ovviamente il premier la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha una visione diversa da questo punto di vista ideologica ovviamente poi è chiaro che non si può discutere delle scelte personali dei rappresentanti delle istituzioni però in generale l'idea che portano avanti è un'idea differente Certo e anche questo se vogliamo un po' il bello tra virgolette perché ci trovo del bello in entrambe le rappresentazioni e penso che entrambe rappresentano comunque un sentire o comunque un qualcosa che ha avvicinato le persone mi piace la politica al femminile Giorgio mi piace la politica al femminile perché credo che quando una donna riesce a in qualche modo a farsi riconoscere vuol dire che è una leader vera queste due donne sono probabilmente due leader esatto e scontano un diciamo un clima culturale di cui non ci dobbiamo dimenticare quello in cui ovviamente chiunque fa per esempio cronaca politica lo sa le donne devono dimostrare il triplo il quadruplo il quintuplo di quello che devono dimostrare gli uomini purtroppo vale anche al contrario questa cosa nel senso che insomma agli uomini serve molto meno ma questo lo sappiamo molto bene senta lei due domande la prima è politica la seconda invece è professionale la politica oggi le ho sentito dire molte prese di distanza da alcune cose che sono successe sia in passato che anche personali si è messa in discussione non voglio dire che non si è presa la responsabilità però se dovesse dire qualcosa di affermativo perché una persona di Prato dovrebbe riconoscersi in lei come rappresentante che cosa porta lei come messaggio diciamo assertivo cosa direbbe è una domanda difficilissima me ne basta uno ma il pensiero critico si può dire c'è la capacità quindi di discutere in maniera onesta aperta in un dibattito che riesce appunto ad essere portatore di pensiero critico di complessità Giorgio io sono molto in difficoltà quando appunto arriviamo a dover semplificare la realtà di oggi in categorie e a doverci soffermare in questi dibattiti spesso poi per contrapposizione temo che non ci aiutino temo che peraltro appunto non si riesca a sciogliere dei nodi ad arrivare risposte che potrebbero essere più celeri in qualche modo invece fermandosi su un dibattito un po' antico appunto forse lei è una persona complessa giustamente racconta che la vita è complessa poi a volte riconoscendo la complessità forse a ragione lei si arriva anche più velocemente alle soluzioni che fermandosi a un dibattito superficiale senta lei fa l'orientatrice insomma il mondo del lavoro lo conosce anche per l'attenzione insomma politica che le dà ovviamente ma anche per il suo lavoro specifico è il vero tema dei temi in questo momento? allora sì io mi occupo appunto da ormai un po' di anni di appunto orientamento professionale è un tema sicuramente importante e anche qui vede purtroppo il vizio di star dentro le cose che ti interessano per cercare di conoscerle da vicino è un brutto vizio che mi porto dietro è troppo tempo vita male è un viziaccio terribile e ecco da questo punto di vista sei sempre quella cosa fai coincidere le tue passioni con il tuo lavoro esatto bisogna esagerare un disastro però ovviamente porta un punto di vista che è quello che poi mi piace mettere a disposizione della discussione dal mio lavoro vedo allora intanto sicuramente il punto di vista di chi incontra coloro che sono oggi i percettori di NASPI piuttosto che di reddito di cittadinanza e quindi diciamo sicuramente c'è un tema molto importante che è sul dibattito quotidiano che riguarda il reddito di cittadinanza e la struttura di questo e da questo punto di vista sicuramente secondo me ci sarebbero appunto delle discussioni dei temi importanti di dover sciogliere rispetto a come funziona e quindi qual è il giusto modo di in qualche modo rendere efficace la misura perché di questo poi si tratta essere efficienti fare qualcosa di positivo come lei diceva riuscire e sicuramente appunto chiaramente comunque tutto il tema del lavoro è assolutamente centrale perché riguarda credo l'intero paese appunto al lavoratore all'impresa e quindi questi sono sicuramente tra i temi più importanti di cui ci proviamo a discutere le volevo fare moltissime altre domande ma siamo già fuori dal tempo massimo quindi insomma mi prendo solo veramente un minuto per chiederle se insomma dovesse essere sindaco per un giorno mettiamola così no? di questa città quale sarebbe la sua priorità? glielo chiedo perché lei è consigliera comunale certo quindi mi fa piacere anche sempre avere il punto di vista di chi fa parte dell'assemblea però incide ma poi in maniera diversa all'opposizione nella maggioranza nella maggioranza dei indipendenti come nel suo caso insomma se fosse sindaco per un giorno quale sarebbe la sua priorità? guardi uno schema preciso di quello che appunto occupandomi anche di formazione è un organigramma importante che vada a definire come vogliamo intervenire quindi per esempio sicuramente il tema dell'immigrazione ma legato alla cittadinanza quindi cercare di un lavoro sul territorio molto importante dal punto di vista della coesione del territorio legato quindi a cittadinanza e essere presenti sul nostro territorio un tema forse che mi sicuramente di cui dovrei occuparmi o vorrei occuparmi il nostro centro storico e quindi tutto quello che è l'apido di un'analizzazione o meno quindi tutto quello che riguarda il vivere all'interno del nostro territorio e in generale comunque anche proprio e l'apertura della nostra città Giorgio tutto quello che ci serve per aprire la nostra città infrastrutture comprese quindi il contatto con l'esterno e qual è la via cosa vogliamo come possiamo aprire la nostra città e arricchirla vabbè insomma se Norcia non si candiderà potete prendere appunti insomma magari visto che adesso nei prossimi giorni nei prossimi mesi fioriranno e moriranno in culla tantissime candidature vedrà ci divertiremo anzi sarei contentissimo se venisse con noi a commentare nei prossimi mesi se ritornasse insomma qui a prima di tutto per commentare anche quello che succederà insomma nel lagone politico e non solo la ringrazio davvero tantissimo insomma le ho già fatto il mio invito a tornare ringrazio anche i nostri telespettatori ricordo possono ascoltare la puntata sul podcast su Spotify appena termina la trasmissione io do appuntamento appunto ringraziando Silvia Norcia con prima di tutto domani come ogni giorno appunto alle 7.30 qui sul 75 su TV Prato questo programma è stato offerto da confcommercio Pistoia e Prato scopri vantaggi di essere socio Nigro Costruzioni creiamo spazi costruiamo il futuro www.nigrocostruzioni.it costruzioni.it